Colgo l'occasione, vi ringrazio per questo, per avermi dato la possibilità di fare i migliori auguri di Pasqua ai miei concittadini. Spero che sia una Pasqua che tutti passino nel modo più tranquillo e nel modo più sereno possibile, magari pensando un po' meno a tutte le difficoltà che oggi, in questo momento, ognuno nel proprio ambiente, sia di lavoro o familiare, attraversa. E quindi spero che questa Pasqua sia proprio al sinonimo della tranquillità, della serenità e credo oltretutto che sia importante augurarsi che sia l'inizio di una stagione estiva, una stagione anche turistica che spero ci dia qualche risultato visto il momento di difficoltà e credo che l'amministrazione da questo punto di vista debba spendere le migliori energie per raggiungere questo obiettivo. Io da questo punto di vista vi assicuro il massimo impegno e vi rinnovo i migliori auguri per le festività pasquali.